Il 26 settembre torna a Faenza il Talk del Post, seconda edizione, questo significa che è andata molto bene la prima edizione, grandi ospite anche quest'anno e tante modifiche naturalmente obbligate per il corpo. Sì, appunto siamo molto contenti di ricominciare un anno dopo da Faenza e che da Faenza appunto ci sia arrivato questo invito a continuare questa collaborazione. È un anno ovviamente particolare e strano anche per quello che riguarda appunto il vedersi e raccontarsi e parlare come dice appunto il titolo del nostro evento pubblicamente e insieme, ma appunto ci stiamo lavorando con le accortezze fisiche del caso, mi sembra che la curiosità e l'interesse delle persone rispetto a parlare di quello che sta succedendo sia comprensibilmente appunto forse addirittura cresciuta e quindi siamo molto contenti di, nessuno immagina diciamo che sia una normalità, ma di trovare appunto dei modi di ricostruire questo pezzo molto importante del rapporto del post con i lettori e con raccontare le cose appunto anche in questi tempi nuovi e diversi. Programma in via di definizione confermata alla sede di Faenza Sales, qualche ospite si può anticipare? Sì certo, ci saranno, dico appunto in ordine sparso, in alcuni casi in collegamento per ragioni comprensibili, Samantha Cristoforetti, Ilaria Capua, Paolo Nori, Mauro Berruto, Lia Quartapelle, non siamo stati attenti, non abbiamo dovuto stare attenti alla discussissima questione del rapporto di genere fra gli ospiti, ma diciamo abbiamo interessi e curiosità appunto per ospiti di entrambi i generi e entrambi i sessi che arricchiscono il nostro programma, visto che in questi giorni se ne è parlato molto.